Ciao a tutti, bentornati nella nostra e vostra comunità. Grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo a questo canale, continuate a farlo anche oggi. Sapete che io cerco il più possibile di fornirvi degli elementi di riflessione, darvi delle informazioni, fare un po' di controinformazioni, e lo faccio soprattutto invitando a raccontare il loro lavoro a determinati ospiti che io scelgo le persone che stimo e che ci possono dare dei contributi interessanti. Oggi è venuto a trovarci Fabrizio Chiodo, che è una persona che stimo moltissimo, ricercatore italiano, palermitano, che lavora al CNR di Napoli e collabora anche per l'Istituto Finlay di Lavana. Nello specifico Fabrizio Chiodo, che è un ricercatore giovane italiano, ha lavorato anche nella produzione, si dice proprio disegnare vaccini cubani. E dovete sapere che, al netto di quello che si può o meno pensare di Cuba politicamente, io tra l'altro, Fabrizio lo sa, non sono comunista, ma mi piacerebbe giudicare un paese sulla base di quello che riesce a dare liberamente, e Cuba non è un paese che è riuscito a esprimersi liberamente, dato che subisce un criminale bloccheo da decenni, decenni. Cioè un paese che non ha messo in condizioni di esprimersi come vorrebbe, come ha diritto di fare, anche in virtù di un posizionamento geopolitico, scelte geopolitiche degli Stati Uniti d'America, che nulla hanno a che vedere con diritti umani, sicurezza, che Cuba minaccia gli Stati Uniti d'America. Anzi, il tema è che siccome bisogna far fallire per forza il socialismo, uno può essere d'accordo o meno con il socialismo, bisogna ostacolarne lo sviluppo il più possibile. Nonostante un embargo veramente vergognoso, Cuba ha dimostrato di poter costruire un sistema sanitario all'avanguardia, un sistema scolastico all'avanguardia, e nello specifico Cuba è uno dei pochi paesi al mondo, non so se Fabrizio ne conosce qualcun altro, dove esiste, dove la casa farmaceutica principale di Cuba Pharma è una casa farmaceutica pubblica, statale, appartiene allo Stato cubano, ergo quel che produce, nello specifico vaccini, medicine, sono pubblici, sono un bene pubblico. Per me è una rivoluzione, anche perché pensate che un tempo, in un certo senso, anche in Italia, decenni fa, si producevano anche dei vaccini, non dico pubblici al 100%, ma con delle joint venture, ma anche in paesi capitalisti come il nostro, esistono appunto servizi pubblici, sanità pubblica, istruzione pubblica, pensate anche delle multinazionali che producono armi, in parte sono gestite dal pubblico, pensate appunto a Leonardo, o la produzione di energia, il petrolio, idrocarburi, pensate a Eni, Enel, eppure non abbiamo una casa farmaceutica pubblica, e se pensiamo al Covid, dobbiamo anche tenere in considerazione che noi europei siamo vaccinati soprattutto con vaccini americani, praticamente nessun vaccino prodotto interamente dall'Unione Europea, AstraZeneca è una casa farmaceutica, che è fondamentalmente britannica, anche se poi credo che abbia lavori anche con la Svezia, in certo senso anche Pfizer è legata alla Germania, però i vaccini con i quali siamo vaccinati sono per lo più vaccini americani, prodotti da case farmaceutiche private, che fanno il loro interesse, però probabilmente anche interesse pubblico sarebbe mettere a disposizione dei cittadini i vaccini pubblici, magari se ci pensate una casa farmaceutica pubblica potrebbe anche lavorare, fare ricerca, per tentare di affrontare, di trovare gli strumenti per sconfiggere delle malattie, come dire, poco fruttuose dal punto di vista capitalistico-economico, perché magari colpiscono non tantissime persone, quindi quelle malattie che magari non vengono il tutto affrontate da case farmaceutiche private, perché non sarebbero economicamente sostenibili, però fondamentalmente questo è il ruolo dello Stato e del pubblico. Io ti lascio la parola, Fabrizio spero di non aver detto stronzate in questa presentazione, perché non è il mio campo, io sto studiando, e studio anche grazie a quello che tu scrivi, pubblichi, ti seguo, seguitelo anche voi sui social, Fabrizio cerca sempre anche di spiegare il successo delle campagne vaccinali fatte a Cuba, grazie appunto ai vaccini prodotti dalla BioCubaFarm, e ti lascio la parola, presentati, meglio di come non l'abbia fatto io, e dici a che punto siamo a Cuba, e per quale motivo è così importante, rappresenta veramente, soprattutto oggi una rivoluzione, l'esistenza della casa farmaceutica pubblica. Sì, tanto ti ringrazio ancora per questa seconda volta insieme online, per il supporto che hai sempre dato a Cuba negli ultimi anni. Io mi chiamo Fabrizio Chiodo, sono un ricercatore che negli ultimi 12 anni ha lavorato tra la Spagna e l'Olanda, e dal 2014 collaboro attivamente con l'Istituto dei Vaccini Finlay a Lavana, principalmente per ottimizzare alcuni vaccini contro la polmonite e la meningite, e a inizio pandemia ho partecipato attivamente al disegno di alcuni dei vaccini sviluppati a Cuba. Allora, facendo una foto ad oggi, oggi Cuba ha vaccinato più del 90% della sua popolazione adulta, il 97% dei suoi bambini dai due anni in su, ha somministrato più o meno 36 milioni di dosi di vaccino, ha avuto un'unica grande ondata che è stata quella drammatica di Delta, e successivamente le ondate di Omicron sono state estremamente controllate. L'unico paese al mondo che ha vaccinato i suoi bambini ha vaccinato i suoi bambini prima di evitare le scuole, e tutt'oggi si tiene la mascherina all'aperto a Lavana. E non c'è mai stato l'obbligo vaccinale, Fabrizio? Non c'è l'obbligo vaccinale, non c'è il crimpasso, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Allora, perché è possibile tutto ciò? Com'è possibile che un'isola decisamente povera e sotto blocco economico da 60 anni sia in grado di sviluppare cinque candidati vaccinali, di cui tre sono diventati vaccini, e altri due verranno autorizzati a breve. Quindi alla fine Cuba avrà sviluppato cinque vaccini con uno specifico target. Uno sarà migliore per i bimbi, uno sarà migliore per le persone anziane, uno per gli immunocompromessi, uno come boost, uno per i convalescenti, cinque vaccini pubblici. In più, come diceva prima Alessandro, c'è Biocuba Pharma, ma sotto Biocuba Pharma ci sono tanti piccoli istituti che lavorano sotto l'ombrello pubblico di Biocuba Pharma, e tra di loro hanno fatto una competizione in maniera pubblica, perché ci sono due istituti che hanno fatto i vaccini Soberana e un altro istituto che ha fatto i vaccini Abdala e Mambisa. Quindi anche nel pubblico si può fare chiaramente una competizione tra le diverse istituzioni e i diversi istituti. Allora, questo non lo fai dall'oggi all'indomani, questo lo fai perché subito dopo la rivoluzione un paese povero e sotto blocco economico sapeva benissimo che non sarebbe mai stato in grado di rispondere a quella domanda di farmaci, di ricoveri, e quindi si è investito in biotecnologie. Cuba sviluppa e produce l'80% dei vaccini che somministra i suoi bambini, che sono tra i più vaccinate al mondo. E allora la forza della biotecnologia pubblica sta principalmente in questo, anche perché quando ci dicono che è grazie a Pfizer e Moderna che io rispetto tecnicamente per quelli successi che hanno avuto, ricordiamoci che la stragrande maggioranza del loro research and development, cioè ricerca e sviluppo, è stato fatto con fondi pubblici. Assolutamente. AstraZeneca, il 99% della sua ricerca è stata finanziata con fondi pubblici, Moderna 2 miliardi di dollari, Johnson & Johnson 2 miliardi di dollari e Pfizer 0,5 miliardi di dollari. Cioè gli abbiamo dato i soldi noi per sviluppare vaccini, per fare ricerca e sviluppo, però poi fondamentalmente i profitti che sono incredibilmente esagerati che hanno ottenuto negli ultimi anni, anche durante la pandemia ovviamente, sono tutto a vantaggio di loro, di privati. E allora, come dicevamo prima, fino agli anni 90, paesi come l'Italia, ma anche e soprattutto la Danimarca e l'Olanda, su un prodotto salvavita come i vaccini, li facevano in maniera totalmente pubblica o semipubblica. Questo aiutava molto anche la gente che era più tranquilla, ci sono proprio dati che i movimenti Novax prendono più potere nel momento in cui tu hai privatizzato la maggior parte di questi sistemi. E questo ha aiutato moltissimo a Cuba. A Cuba la gente faceva carte false pur di partecipare ai clinical trial dei vaccini contro SARS-CoV-2. Vi assicuro, c'era raggiungere il 90% di adulti vaccinati, ripeto, non lo fai dall'oggi all'indomani, non c'è nemmeno bisogno di obbligo vaccinale. Quindi ecco, Cuba ha dimostrato al mondo che la biotecnologia pubblica è la soluzione per i paesi più poveri, ma anche per i paesi più ricchi. E l'esempio eclatante a mio avviso è quello dei vaccini per la pediatria. Perché, vedete, vaccinare i bambini fin da subito è stato qualcosa che Cuba ha capito sarebbe stato fondamentale. Il bambino fa ricircolare il virus tra gli adulti, il bambino si infetta, ci sono molte probabilità che i bambini soffrano del long COVID, dei postumi da COVID, e stiamo ancora cercando di capire questi casi di epatiti fulminanti in pediatria se hanno una connessione con una pre-infezione da SARS-CoV-2. Allora, com'è possibile che Cuba, ma anche altri paesi, ma com'è possibile che Cuba abbia sviluppato un vaccino pensato per la popolazione pediatrica che è il Soberana 2 e invece noi, i paesi più ricchi, stiamo ancora aspettando Pfizer e Moderna con il loro vaccino mRNA che in pediatria non sono ottimali e ancora non siamo in grado di avere un vaccino. Fabrizio, perché non sono ottimali in pediatria? È un punto di vista immunologico, non parlo di una questione di sicurezza. in pediatria sicuramente i tempi in pediatria sono più lunghi perché è una tecnologia che non era mai andata sotto i 18 anni. Quindi le entità regolatorie hanno bisogno di più dati e di più tempo. Il vaccino cubano invece è disegnato per i bimbi usando una tecnologia che funziona immunologicamente in maniera ottimale per stimolare la risposta immunitaria dei bimbi. E c'è stata utilizzata questa stessa tecnologia anche per affrontare altre patologie. Sì, polmonite, meningite, emofilo influenza di tipo B, eccetera, eccetera. Semplicemente i vaccini mRNA da quello che abbiamo visto finora funzionano meglio in adulti rispetto a che i bimbi mentre il vaccino coniugato cubano funziona meglio nei bimbi rispetto a che gli adulti perché è un vaccino disegnato pensato per la popolazione pediatrica. Allora, questo è un po' il punto. Com'è che Cuba ha sviluppato quel tipo di vaccini e invece nessuna grande compagnia farmaceutica che possa essere GSK, che possa essere Merck, che possa essere Novartis, Sanofi, eccetera, non ha riuscito a fare qualcosa del genere e questo fa riflettere perché io tutto mi potevo immaginare tranne che ad oggi l'istituto Finlay per cui io lavoro si trovasse davanti a Pfizer in pediatria. Non è una gara ma un'isola povera e sotto blocco economico che raggiunge quei tassi di vaccinazione in bimbi che vaccina i suoi bambini prima di riaprire le scuole è qualcosa che onestamente va raccontata e quindi ti ringrazio anche per questo. Però la tutela pubblica è possibile. Fabrizio, per chiaramente sviluppare vaccini a Cuba ne ha sviluppati ha prodotto cinque candidati vaccinali poi dici anche cosa significa candidato vaccinale tra l'altro un piccolo inciso qui è diventata una brutta parola la parola sovranità posto che la troviamo anche all'interno della nostra Costituzione e viene associata non so a Salvini alla Meloni non c'entrava niente il sovranismo non lo so veramente una scemenza totale però la parola soverana per questo si chiamano i due vaccini di cui parlava Fabrizio Soverana perché la parola in spagnolo vaccino è femminile la vacuna si dice e quindi soverana cioè sovrana vaccino che è femminile in spagnolo sovrano è stata appunto la scelta per chiamare due vaccini che è bello no? cioè è bella la parola sovranità se li produciamo noi con le nostre risorse e quindi la domanda Fabrizio ovviamente più vaccini produce Cuba magari un domani li venderà notoriamente Cuba spesso e volentieri ovviamente deve anche supportare le proprie aziende farmaceutiche case farmaceutiche però ha garantito la somministrazione dei vaccini contro determinate malattie a prezzi bassissimi nei paesi magari in via di sviluppo che non potevano competere economicamente con i grandi paesi e l'avete visto che le grandi case farmaceutiche soprattutto americane vendevano maggiormente la terza la quarta dose nei paesi che possono pagare di più le dosi rispetto a dei paesi in via di sviluppo comunque africani dell'Africa nera che hanno meno disponibilità economica Cuba si è comportata sempre in maniera diversa garantendo anche vaccini a costi molto più bassi per affrontare determinate malattie altrimenti inaffrontabili in paesi in via di sviluppo però la domanda Fabrizio ovviamente Cuba nel disegnare nel sviluppare candidati vaccinati investe dei denari per cui cioè il meccanismo della casa farmaceutica pubblica per questo come dicevi tu c'è fiducia a Cuba e le persone sono vaccinate in massa senza obbligo vaccinale senza green pass senza ricatti lavorativi e compagnia cantante proprio perché l'idea è dato che lo Stato spende dei soldi come noi spendiamo dei soldi in istruzioni in sanità eccetera eccetera è evidente che se vuole aumentare il numero di vaccinate perché ritiene davvero che sia fondamentale vaccinare e non c'è nessuna dietrologia neanche complottistica in un certo senso ovvero vogliono vaccinarci perché così fanno più soldi ci vogliono fare più dosi così si arricchiscono più le case farmaceutiche in questo senso non c'è per cui più investe in vaccini Cuba e più spende dei soldi e poi anche in virtù del bloccheo non sono infiniti perché non ha la stessa possibilità di commerciare e di sviluppare la propria economia rispetto agli altri paesi ergo è questa la chiave anche legata la fiducia che i cittadini cubani hanno rispetto al sistema sanitario sicuramente è una delle chiavi che si lega anche a un sistema sanitario pubblico è un sistema di istruzione pubblico che funziona benissimo anche la divulgazione scientifica è fatta in maniera diversa a Cuba in televisione vanno gli esperti a parlare di tematiche precise convincendo la popolazione che è utile vaccinarsi ma ti faccio proprio l'esempio della differenza tra vaccino e farmaco vedete Cuba ha investito in vaccini perché sapeva che vaccinando abbassavi i costi dei ricori e la ricchezza di farmaci specifici contro SARS-CoV-2 che hanno dei prezzi altissimi vi faccio l'esempio del farmaco antivirale di Pfizer che costa 700 dollari il trattamento ci sono 5 compresse più o meno 700 dollari costano per trattare un paziente allora è lì che faranno molto mercato anche perché con le regole del mercato attuale quel prodotto che a Pfizer costa sui 1-3 dollari dovrebbero vendertelo 25 dollari invece lo venderanno a 700 dollari al trattamento per questo insisto che la vaccinazione è effettivamente in realtà paradossalmente una delle armi contro Big Pharma ma da sempre cioè vaccinanza e domani vacciniamo la gran parte della popolazione mondiale contro la maggior parte della malattia infettiva a livello pediatrico soprattutto molti antibiotici molti ricoveri non avremmo bisogno di ciò e effettivamente Big Pharma potrebbe prendere un grande colpo le grandi industrie farmaceutiche non sono mai state principalmente interessate al concetto di vaccinazione perché il concetto di vaccinazione economicamente in questo sistema economico è sbagliato perché io ti proteggo contro 10 malattie infettive da bimbo e poi non avrò bisogno dei ricoveri e dei farmaci personalmente Alessandro si è pensato che alla base dei forti movimenti Novax non le persone che hanno paura a cui dobbiamo parlare ma i Novax più complottisti i Novax più complottisti fanno il gioco di Big Pharma perché è con il ricoveri di quei farmaci che Big Pharma effettivamente fa la maggior parte del profitto a Cuba questo non succede perché da anni sono bimbi che sono protetti contro tantissime malattie infettive faccio l'esempio del vaccino contro la polmonite me l'hai scatenato tu questa frase perché hai detto una cosa vedete il killer numero uno in bambini sotto i 5 anni è la polmonite cioè sotto i 5 anni nel mondo la polmonite ammazza più di HIV e malaria messi assieme la gente questo ovviamente non lo sa se non studio queste cose il vaccino contro la polmonite sono più o meno 60 dollari la dose e un bambino ha bisogno di 3 dollari di 3 dosi quindi più o meno sui 180 diciamo dollari per bambino ma come fa un paese come Cuba ad affrontare quei costi per giunta di un prodotto che non potrebbe nemmeno entrare a Cuba a causa del blocco economico ecco Cuba negli ultimi 10 anni ha sviluppato il suo vaccino eptavalente contro la polmonite ed è un prodotto che uscirà verrà autorizzato il prossimo anno gli ultimi step dei clinical trial si sono congelati dovute dovute alla pandemia ecco sul vaccino contro la polmonite per me c'è proprio la chiave della biotecnologia cubana cioè in più è un vaccino che protegge dai serotipi cioè diciamo dei batteri che causano la polmonite più distribuiti nel mondo e non solo nei paesi più ricchi quindi ecco hanno investito 10 anni di biotecnologia pubblica perché non possono permettersi 180 dollari 200 dollari per vaccinare un bambino contro il killer numero uno prima insomma qualcuno dirà quindi Alessandro tu vuoi che l'Italia diventi Cuba queste stronzate qua lì non c'è libertà e compagnia cantante a parte il fatto io gradirei che si smettesse di parlare delle mancanze di libertà altrui fino a che non saremo capaci di scagliarci positivamente per la liberazione di Julian Assange perché altrimenti siamo ridicoli anzi sono ridicoli le persone che evidentemente guardano altrove quando la libertà di stampa è in pericolo soprattutto in occidente in virtù di certe schifezze che vengono fatte io banalmente non vorrei che l'Italia si trasformasse in Cuba però mi piacerebbe moltissimo che l'Italia vi fosse una casa farmaceutica pubblica con ricercatori pagati dallo Stato pagati appunto per produrre farmaci per produrre vaccini perché credo che la chiave appunto sia questa rispetto al tema della fiducia perché Fabrizio io le mie paure poi spesso e volentieri io lo chiamavo Fabrizio per fargli delle domande essendo la medicina è ancor meno il tema vaccinazione quel che io ho studiato però io onestamente quando ho sempre pensato questa te la dico Fabrizio ho sempre pensato meno male che i miei figli hanno due anni e quattro anni così non neanche mi sono dovuto trovare davanti alla decisione di doverli o meno vaccinare perché ho sempre pensato che comunque il covid colpisse maggiormente le persone più anziane fossero più in pericolo le persone anziane per cui quello che dicevi tu è evidente che i bambini sono capaci di portare il virus pensa io ho avuto il covid nonostante tre dosi di vaccino questo anche perché il nostro presidente del consiglio diceva se avete il green pass sarete al sicuro poi si è ammalato pure lui grazie a Dio in maniera sintomatica e ho avuto il covid io e la mia compagna siamo stati chiaramente dieci giorni e passa a casa in quarantena con i bambini piccoli non potevamo dare a nessun'altra non potevamo affidare a nessun'altra persona i bambini piccoli non si sono presi il covid nonostante siano stati attaccati uno c'ha due anni l'altro comunque entrava nel letto si infilava nel letto e io anche in virtù di questa esperienza sai ho detto però meno male non l'ho vaccinato sono così piccoli ho le mie paure chissà che qualora anche in Italia ci fosse stato ci dovesse essere in futuro lo sogniamo la casa farmaceutica pubblica una serie di timori potrebbero anche scemare però questa te la dico che come poi lo diceva prima Fabrizio bisogna ascoltare le paure delle persone le persone sono terrapiattiste se hanno paura bisogna ascoltare senza criminalizzare anche perché ho sempre pensato che la criminalizzazione dei dubbi e delle paure non abbia mai portato alla vaccinazione no ripeto sulla vaccinazione pediatrica con dalla variante delta e poi omicron diciamo che il sistema immunitario dei bambini non era più in grado di contenere l'infezione come è successo con le varianti di prima quindi adesso sappiamo proprio che è molto rischioso esporre i bimbi al virus e purtroppo non purtroppo c'è un vaccino sicuro in pediatria che sono il vaccino di Pfizer tra i 5 e gli 11 anni però in Italia si è vaccinato il 34% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni in Inghilterra aspetta che me lo sono annotato si è vaccinato il 5% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni in quella popolazione pediatrica se decidi di fare circolare il virus se non hai messo in sicurezza le scuole sono problemi e saranno problemi bisogna stare attenti quindi ecco Cuba ha disegnato un vaccino per la popolazione pediatrica utilizzando una tecnologia nota e stranota che funziona meglio nei bambini rispetto a quegli adulti è vaccinato il 97% della sua popolazione dai due anni in su la popolazione uno o due anni si sta facendo adesso uno studio clinico in più anche un milione di bambini è stato vaccinato in Nicaragua quindi già il vaccino sempre con il vaccino cubani così col vaccino sobrano pediatrico il vaccino cubani sono già autorizzati anche in Iran Vietnam Venezuela Nicaragua Messico quindi diciamo si va parlando con l'entità regolatoria e piano piano si prova a salire il livello diciamo del tuo interlocutore perché c'è quello che l'entità regolatoria chiamano in ingles unmet medical need cioè un qualcosa di cui io ho bisogno che tu hai e quindi anche se sei Cuba le entità regolatorie ti ascoltano in maniera diversa perché hai qualcosa che può salvare le vite umane che è l'obiettivo per cui io lavoro col Finlay Institute è perché Cuba sviluppa vaccini è semplicemente quello di salvare le vite umane vedete i colleghi epidemiologi hanno stimato che si sono evitate quasi centomila infezioni di bambini avendoli vaccinati prima di riaprire le scuole con le ondate di Omicron di questi centomila molti ancora non sappiamo cosa può causare questo virus ma può causare decessi può causare lungo covid problemi epatici problemi al cuore non lo sappiamo è un rischio che Cuba non ha voluto intraprendere e aver protetto centomila bambini statisticamente controllando i numeri che Cuba ha evitato è qualcosa di impressionante anche per chi in più avendo vaccinato i bimbi hai tagliato la circolazione del virus verso gli adulti e hai con Omicron evitato i casi di reinfezione in adulti e nelle persone anziane Cuba è uno dei paesi al mondo che ha gestito meglio le ondate di Omicron quindi questo è molto importante Fabrizio quante volte sei stato a Cuba durante diciamo i due anni della pandemia due volte uno nel momento peggiore della pandemia ad agosto dell'anno scorso infatti io ero a fare dei documentari in Bolivia volevo ti ricordi andai anche a chiedere l'ambasciata cubana di La Paz ma non me lo diedero perché in quel momento era un momento drammatico io ero lì ad agosto è un momento drammatico dove però entrare nelle città si andava a Sienfuegos perché c'era uno studio clinico a Sienfuegos entrare nelle città con la macchina con i loghi dell'istituto Finlay e vedere la gente che applaudiva i miei colleghi vedere la gente il direttore dell'istituto dei vaccini Finlay che potrebbe essere un CEO miliardario in un altro stato oltre ad essere un scienziato brillante è la persona che più stimo al mondo andare lì vi sente da Rezbencomo andare lì in ginocchio davanti a una bambina a spiegare perché era importante partecipare agli studi clinici vedere la gente che applaudiva questi colleghi in un momento drammatico per una città come Sienfuegos per esempio è stato qualcosa di estremamente formativo quindi questo è stato un momento e poi è stato invece bello tornare penso a novembre e dicembre con già la maggior parte della popolazione vaccinata sempre con le mascherine all'aperto ma con già una vita che ritornava quasi alla normalità è stato bellissimo poi partecipare appunto agli studi clinici con i bambini perché vedete convincere un adulto a partecipare a uno studio clinico è un livello di fiducia convincere una mamma a fare partecipare un bimbo a uno studio clinico è un ulteriore livello di fiducia cubomi volta che chiede cento persone sparo per uno studio clinico se ne presentano trecento e questo è qualcosa di straordinario tu non sei papà io che lo sono se mi dicessero ti va che i tuoi figli partecipino ad uno studio ad una ricerca di vaccinazione cioè io io non lo faremo e aver visto quelle mamme hanno visto negli anni come confrontandosi con bimbi di paesi là vicino Porto Rico o leggendo quello che succede in paesi più o meno poveri sanno che i loro bimbi sono tra i più vaccinati al mondo non hanno non prendono tipi di polmonite non prendono la medicina è una cosa drammatica in bambini e quindi è una è veramente emozionante quando tu spiega ai genitori come fare io la mia prima esperienza a Cuba era il 2013 2014 con i vaccini contro la polmonite che facevo riferimento prima lì dove convincevo una mamma che aveva un lattante tra le braccia quindi ulteriore livello di fiducia e lì è impressionante facevano carte false per partecipare allo studio clinico perché quel bimbo sarebbe stato protetto prima degli altri è una cosa emotivamente vera è una cosa emotivamente vera è tutto vero e non esistono i novax a Cuba i novax direi quasi non pervenuti cioè saranno veramente pochissimissimissimi cioè si è vaccinato ripeto 90% degli adulti e 97% dei bimbi e la cosa paradossale che leggiamo di quei pochissimi novax che ci sono loro non si vaccinano ma i bambini li hanno vaccinati immediatamente perché perché è un altro tipo di ragionamento che fanno io su di me prendo la mia scelta io non mi vaccino perché sono un novax ma non mi permetterei mai con il 97% dei bambini vaccinati di non vaccinare il mio bambino perché se poi gli succede qualcosa che succede? questo è un paradosso che succede in quei paesi dove si è investito molto io ripeto anche in comunicazione e anche in didattica cioè i bambini li sanno benissimo quando vedono un risultato di uno studio clinico che è il puntino più alto e il bambino che ha più anticorpi perché lo hanno visto e si è visto e si è visto e si è visto in televisione sono bambini che fanno questo anche proprio per una forma di altruismo riporto questo esempio che non è propaganda a me non mi paga nessuno per dire quello che dico è uno studio clinico con i bambini all'ospedale a Lavana c'è un pagliaccio terapeutico perché lì si organizza tutto lo studio clinico con i pagliacci terapeutici per fare stare bene i bimbi si scherza i bambini gli spiegano perché è importante il vaccino e c'era questo pagliaccio con un telefonino finto che aveva radunato una decina di bambini attorno e chiedeva bambini bambini potete chiedere qualsiasi cosa potete telefonare a chiunque potete chiedere qualsiasi cosa allora io mi sono avvicinato ti puoi aspettare di tutto da quei bimbi bambini diciamo appunto 5-8 anni 5-10 anni mi sono avvicinato e una bambina ha detto io voglio che tutti i bambini vengano vaccinati e il pagliaccio chiede ma tutti i bambini di Cuba o tutti i bambini del mondo io l'unica cosa che voglio è che tutti i bambini del mondo vengano vaccinati in questa bambina per me c'è tutto Cuba che io vivo c'è coscienza di quello che fai c'è rispetto verso gli altri c'è fiducia in un sistema pubblico quella bambina non era né pagata da Diaz Canelle né solo sono io in questo momento è semplicemente quello che è stato scritto nella locandina di tutti i soberani la forza di un paese la forza di un paese per me è nella frase di quella bambina lì che poteva chiedere qualsiasi cosa a quel pagliaccio poteva esprimere tutti i desideri che voleva sapeva che la pandemia sarebbe finita quando anche tutti i bambini del mondo sarebbero stati vaccinati e così così sarà comunque Fabrizio perché io riflettevo su questa cosa io sono contrarissimo all'aumento delle spese militari la Nato ha imposto di fatto da anni all'Italia di raggiungere il 2% del prodotto interno lordo in spese militari ovviamente li conviene perché anche noi produciamo armi tra l'altro non so se lo sapevi ma il gruppo è il canagnelli il gruppo Exor detiene anche la proprietà della terza fabbrica di armamenti principali in Italia si chiama Iveco Defense Vehicles e produce mezzi blindati comunque mezzi bellici e sono anche proprietari ovviamente del gruppo G di la Repubblica e l'Espresso l'hanno venduto la stampa al secolo XIX e anche radio e tanti altri giornali locali ma comunque le principali multinazionali di armi al mondo sono nordamericane ergo se tu aumenti la spesa militare comunque dai un vantaggio soprattutto alle americane che producono il numero maggiore di armamenti hanno le imprese più potenti dal punto di vista economico ti dicevo io sono contrarissima anche perché arrivare al 2% il prodotto interno lordo di aumento di spese militari significa spendere circa 14 miliardi di euro in più all'anno non soltanto in armamenti ma soprattutto in armamenti tu pensa cosa significherebbe magari di questi 14 miliardi di euro non spenderli per arrivare al 2% ma investirne magari 10 all'anno nella creazione di una casa farmaceutica pubblica 10 miliardi di euro all'anno assumere giovani ricercatori come te come tanti altri creare luoghi di studio di ricerca di produzione perché non c'è nessuna forza politica che mette in un programma la creazione di una casa farmaceutica pubblica cioè è visto come impossibile anacronistico comunista cioè per quale motivo non c'è in Italia una forza politica anche di sinistra dice punto soprattutto in questo momento stiamo ancora nel bel mezzo di una pandemia benché se ne parli molto meno ovviamente in virtù della guerra in Ucraina perché non c'è una forza politica se primo punto questo secondo punto conflitto interessi terzo punto un aumento dei salari quarto punto la creazione di una casa farmaceutica pubblica all'interno della quale investire 10, 6, 7 miliardi all'anno da quei prossimi 10 anni per produrre vaccini medicamenti farmaci scusate eccetera eccetera per affrontare patologie perché? ma è è un discorso complesso penso che negli ultimi 10 anni aver privatizzato ogni settore della società dalla scuola alla sanità porti anche a non poter minimamente pensare che tu possa rendere pubblico un bene essenziale come un vaccino quindi è molto complicato da qualsiasi forza politica esporsi in tale maniera però sono ottimista perché vedi a livello di ricerca per lo spazio l'Europa ha la sua agenzia spaziale europea è pubblica fa ricerca pubblica allora mi chiedo a livello europeo e sono molto ottimista perché i grossi limiti li hanno visti è stata una prova si sono visti i limiti si sono visti i limiti questo sistema economico allora sono molto ottimista perché sono convinto che almeno sui vaccini io mi immagino che tra qualche anno ci sarà un hub europeo nazionale di produzione maggiormente pubblica perché poi diciamo io descrivo i numeri analizzo i numeri e parlo con i numeri diciamo vedete aver vaccinato i furetti in alcuni stati gli animali e non aver vaccinato i medici nei paesi più poveri aver vaccinato cioè c'è il 77% del mondo che è senza boost ci sono 3 miliardi di persone che sono senza vaccino e non è l'emosina se non vaccini quelle zone del mondo lì come ho detto anche altre volte non proteggi il mondo le varianti sono venute fuori da sistemi immunocompromessi o malnutriti dei paesi con pochissime vaccinazioni e allora questo si è notato questo si è visto questo è un grande paradosso perché abbiamo dovuto investire solo in un tipo di tecnologia io riprendi per i primi come all'inizio vaccino il mRNA sono state una cosa straordinaria fantastico un successo immenso per la scienza e poi e poi dovevamo parlare al mondo dovevamo metterli tutti sul tavolo ottimizzare la maniera in cui venivano distribuiti questi vaccini vedi uno pensa sempre in maniera Europa Centrica e Stati Uniti nel mondo in questo momento non sono autorizzati 4 o 5 vaccini contro il Covid ce ne sono autorizzati 19 cioè il mondo è più grande di quello che pensiamo delle nostre entità regolatorie qui non è una grande magari a livello del mondo autorizzati da chi di quale nel mondo ci sono vaccini cinesi autorizzati ci sono vaccini del Turkmenistan ci sono diversi vaccini cubani ci sono diversi vaccini russi diversi vaccini di altri paesi di grande a proposito di geopolitica per questo io non sono più pessimisti io sono una persona del pensamento ottimista infatti facciamo questi diretti appunto perché cerco insieme a te di seminare anche appuntista culturale però ti ricordi che io ti dissi occhio perché io la vedevo la russofobia al netto dell'invasione ma ecco che devo fare quello che sai perfettamente come la penso sulla guerra e sull'invasione russa e sulle guerre in generale però io ti dissi che non ero convinto che sarebbe stato autorizzato Sputnik perché veramente geopolitica poi sai io ci ho scritto tanto rispetto a tutte le i fondi di investimento che detengono quote azionari importanti delle multinazionali farmaci di big pharma tra l'altro interconnessi addirittura con i grandi social network vedete chi investe i grandi investitori istituzionali in social network sono sempre gli stessi in un certo senso cioè ti rendi conto che Sputnik di fatto non è stato autorizzato pur essendo un vaccino che tu mi hai sempre detto che insomma funziona Sputnik guarda io anche lì parlo coi fatti Sputnik autorizzato da 71 paesi nel mondo cioè 71 entità regolatorie del mondo tra cui Israele e tra cui l'Australia che hanno degli standard produttivi per l'accettazione delle farmaci elevatissimi credo scusa se ti interrompo che addirittura l'esercito israeliano sia stato vaccinato con Sputnik credo la scienza Bolsonaro ha autorizzato tutti i vaccini possibili perché sanno benissimo che in una situazione d'emergenza è inutile dire il vaccino cinese è brutto il vaccino russo è brutto io quello che ho sempre provato a spiegare a livello mediatico e di geopolitica come io da scienziato ho difeso tecnologicamente la sicurezza dei vaccini mRNA perché sapevo che il Big Pharma avrebbe fatto profitto sui non vaccinati facendo circolare il virus mandando la gente in ospedale dall'altro lato tu potevi anche dire guarda noi in Europa abbiamo degli standard produttivi molto elevati che paesi come Cuba per esempio non riescono a raggiungere a causa del blocco economico principalmente non ha niente a che vedere con la sicurezza della qualità del vaccino poi possiamo anche parlare di questi standard produttivi ma tu dovevi dire noi in Europa non li possiamo autorizzare perché vogliamo degli standard produttivi ancora ancora più elevati per quanto l'entità regolatore cubana è considerata dall'OMS di alto livello chiusa parentesi tu dovevi dire però nel mondo ci sono altri vaccini come i vaccini cinesi il vaccino russo eccetera che giocano un ruolo importante che stanno salvando vite umane ecco anche questo avrebbe diminuito un po' anche il numero dei novax perché tu semplicemente li raccontavi tutti io li racconto tutti io da scienziato li racconto tutti di ognuno ti posso dire vantaggi e svantaggi e difetti sono vaccini che quelli cinesi tecnologicamente andavano aggiustati un po' meglio perché la spike si rompe un pochino quando si disattiva e con un gusto funziona con un gusto quello che tu io l'ho manifestato però empiricamente nel senso innanzitutto Fabrizio prima diceva io rispetto ai vaccini di Pfizer ho sempre consigliato applaudito ne sono testimone io quando alcuni miei amici o parenti avevano dei dubbi rispetto proprio alla vaccinazione io li ho fatti parlare con Fabrizio che provava anche con un approccio diverso da sei uno stronzo che ti può vaccinare che pensi che la terra sia piatta che la luna sia fucsia provava appunto a dare degli elementi alcune persone Fabrizio le ha convinte vaccinarsi ovviamente con i vaccini autorizzati in Europa in Italia però quello che dici tu è verissimo io non milioni di persone o migliaia di persone però c'è stata qualche decina di persone che mi diceva è tutta geopolitica io non mi fido guarda Sputnik è un vaccino che funziona è stato autorizzato credo anche a San Marino si siano forse vaccinati con Sputnik ma qui no perché c'è questione appunto vogliono con la Russia ci sono dissidi geopolitici vogliono bloccare il nostro imme tutta questa roba qua tra l'altro poi ahimè sono anche cose legate alle cause dell'invasione russa che non giustifico però capisci quando tu dici la non autorizzazione di determinati vaccini che funziona qualcuno funzionerà meglio in una categoria di persone qualcun altro avrà delle pecche ovviamente non sono nulla è perfetto in questo modo ma funziona tant'è che sono stati autorizzati da tantissimi paesi ma non sono stati autorizzati in Europa questa roba crea dubbi agisce nella mancanza di fiducia nella diminuzione della fiducia perché le persone si dicono ma se è così legata alla geopolitica all'interesse geopolitico perché io mi devo fidare di persone che non mettono al primo posto dell'analisi delle decisioni appunto salvare vite ma anche questioni geopolitiche hai ragione io guardo il mondo i paesi africani credo che i vaccini più somministrati siano AstraZeneca Sinovac Sinopharm Sputnik e poi anche i vaccini mRNA che tecnicamente non sono semplici da trasportare nei paesi più poveri per un problema di natura e di stabilità del prodotto hanno bisogno di una catena di freddo un po' più rigida non è una gara noi dovremmo ragionare a livello mondiale e non si è fatto così ripeto non ne usciremo mai se non si vaccina tutto il mondo e non ne usciremo mai se non vaccineremo tutti i bambini del mondo e al momento quello che ci offre Pfizer in pediatria sono tre dosi di vaccino mRNA con molta probabilità la vedo molto complicata soprattutto da un punto di vista logistico prima di poi le paure che le persone possono avere i dati parleranno chiaro sarà un vaccino sicuro però ripeto è un'isola di 11.5 milioni di abitanti sotto blocco economico di 60 anni al momento ha un vaccino disegnato per la pediatria che Pfizer non è riuscito a fare e che sviluppa una tecnologia già più che collaudata con una tecnologia nata per la popolazione pediatrica in utilizzo a Cuba da una trentina d'anni quindi questo porta al successo al successo sulle ondate di Omicron io non so cosa succederà con le prossime varianti simili varianti di Omicron e con quello che succederà però ripeto nel momento in cui tu decidi di fare circolare il virus nel momento in cui tu non sei riuscito a vaccinare la maggior parte della popolazione pediatrica i rischi aumentano ed è lì che Big Pharma fa profitto io questo lo insisto sempre a dire le grandi compagnie farmaceutiche che fanno profitto sul farmaco non fanno il profitto sui vaccini ovvio che l'hanno fatto ma vi assicuro che faranno molto più profitto non solo con i farmaci antivirali contro SARS-CoV-2 ma anche con tutti i farmaci di cui avevamo bisogno per postumità covid come farmaci per aggiustare il sistema cardiocircolatorio che probabilmente con l'ongo covid non funzionerà più come prima eccetera eccetera quindi è molto complicato gli effetti indiretti di SARS-CoV-2 sono impressionanti è quello che provo sempre a spiegare non è tanto il tasso di letalità per sé di questo virus ah ma a me non mi ha fatto niente nei paesi più poveri sono saltate tutte le campagne di vaccinazione contro altre malattie infettive nei paesi più poveri in via di sviluppo i casi di decesso posto parto sono aumentati di brutto evidentemente nei paesi ricchi sono saltate le diagnosi contro i tumori in Inghilterra sono saltati 6 milioni di interventi chirurgici e allora che cosa è covid-19 ecco covid-19 è un problema di collettività che si risolve pensando in maniera collettiva soprattutto pensando agli effetti indiretti e Cuba a mio avviso è uno dei paesi che ha dimostrato al mondo quello che la biotecnologia di Stato può fare con prodotti di altissimo livello e unici al mondo in questo momento Fabrizio grazie per questa bella chiacchierata Fabrizio lo trovate su Facebook lo trovate su Instagram è sempre molto disponibile seguitelo per avere delle informazioni sul suo lavoro su quello in cui crede e per il quale lotta io ti abbraccio e grazie per tutto quello che fai grazie buona volta buon lavoro e buona giornata speriamo di vederci di persona presto che ci incontri va bene va bene succede ciao grazie buona giornata grazie a tutti grazie a tutti